Ciao a tutti ragazzi sono Carmine e benvenuti a questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo ritornati su Brawl Stars Terzo video di fila Oggi, perché mi sta piacendo troppo questo gioco Ragazzi, oggi siamo in compagnia di un mio super amichissimo Ragazzi, siamo in compagnia di Piox Saluta Pio Ciao a tutti, ciao a tutto stormo Io sono Piox, venite Piox Gamer e benvenuti in questo nuovo video Insieme a Carminella Portezza Ragazzi, in compagnia del mio amico Aspettate che abbasso la voce Ci sono pure io E ovviamente c'è anche Tommy C'è un trio ragazzi C'è un trio però Tommy non c'è Ragazzi, oggi giocheremo le sopravvivenze con Piox Vero Piox? Yes Ok, però prima di cominciare volevo farvi vedere questo cretino di Tommy Che, dove stai? Aspetta Al primo posto dei miei amici Che ha 8.000 trofei 8.205 Vabbè ragazzi, ora senza perdere tempo cominciamo Piox, sei pronto? Un attimo, un attimo, mi stai sospendendo il telefono Ragazzi, lui ha un pochino di lag Ragazzi, è la sua prima volta che esce nei video Quindi perdonatelo nel caso questo video viene un poco così Niente, anche lui aprirà un canale Si chiama Piox Gamer Inizierà domani con i video Ci sei? Sì, ci sono Quindi ragazzi, mettiamo pronto Pronto Iscrivetevi al mio canale Tommaso Scienzo Non fa video però Ragazzi, purtroppo Ogni tanto lì si spegne il telefono Però sarà un video molto divertente Bravo Vate a prendere quelle casse Ovviamente vi ricordo di nuovo di iscrivervi al suo canale Perché aprirà un bel canale Ovviamente farà Brawl Stars come vedete Vero? Vero cammino, vengo qua Vengo, vengo No, no, non è che mi sta laggando Solo che mi serve perché se no c'è noi Raga, purtroppo vi ricordo È la sua prima volta che esce su YouTube Quindi non sarà perfetto Però dai, lasciamolo stare Cioè comunque è nuovo su YouTube Aprirà un suo canale No, aspetta, lasciala in pace Non gli corre Ragazzi, ovviamente Ovviamente adesso Ragazzi, ovviamente adesso non so se lo sentite bene Perché il video non è in diretta Però, vabbè Qualcosa si dovrebbe sentire Ho messo vicino a lui Niente Come va la parte Allora va bene, dai Anche me va bene Solo che Solo che mi sta Un po' laggando Eh, lo so, lo so, vedo Vabbè ragazzi Vi divertirete un sacco Se seguirete il suo canale Come si chiama? Dillo subito ai nostri spettatori Ragazzi, il mio canale Si chiama Piuksgamer È bella raga Uccidiamo subito Bontri Non ti preoccupare Abbiamo ucciso un bo Ah, sei morto Scappo, scappo, scappo Perché Con Frankenstein Fatti un bucci Tu nel primo Siamo morti Raga, purtroppo Questo video sarà Iscrivetevi al mio Raga, ovviamente Questo video sarà Un po' con un camper Perché Sarà molto difficile Ve lo dico Un po' difficile Giocare così Però Ci proveremo Dai Dobbiamo farcela Cioè, dobbiamo fare Eh, si vede Si vede Ok, però Piuks C'è una cosa positiva C'è una cosa positiva Non perdiamo coppia Secondi, secondi Non ci credo Ci abbiamo fatto Essere secondi Attenzione perché Sono la nita No, la stavo per uccidere Ci sei Raga, bella partita Comunque Più sette trofei Non si buttano E niente Ti stai divertendo? Si Ragazzi Comunque Voglio annunciarvi una cosa Una cosa che per me È molto Bella Perché sono felice Da oggi in poi Io E Pio Potete chiamarlo anche Alessandro Saremmo in collaborazione Su Youtube Ragazzi Faremmo i video in collaborazione Lui sul mio canale E io sul suo canale Capito? Vero? Yeah, si Saremmo soci Non sei un brawler Saremmo soci su Youtube Comunque ritorniamo a noi Anche io lo cambio Perché non mi piace tanto questo Metterò Ehm Ti suggerisco io Dai Chi? Ti suggerisco io Eh, dimmi, dimmi Chi posso mettere? Mmm Mmm Eh Lo sai, lo sai Che c'è Amico di Di Colt E di Bombardino Versione femmina Comunque Ehm Andiamo Vai, scegli, scegli Ragazzi, guardate qua Bambardino Bombardino Bombardino E proviamo Bombardino Dai, tanto non fa mai male Ehm Vai, c'ho anche la skin Tu rimani con Bibi? Oh, com'è? Tu rimani con Bibi? Cazzino, dai Suggeriscimi tu una a me Guarda Eh, si è aumentato con i brawler Eh, te lo dico Ehm Non lo so Prova con Rosa Prova con Rosa Con Rosa Guarda, c'era il mio brawler Così da quando Così da quando Devo tre settimane Che è uscito Che è uscito Che è uscito a casa Su ProSers L'ho trovato in una casa In una casa Eh No, ragazzi No, io invece Rosa me la sono acquistata Dal negozio Dicendo Dove gemme che saranno macce Che erano Eh, vabbè Io Mi sto rispettando Alcune gemme Eh Per la guerra Nel senso Per un nuovo brawler Brava, brava Lo so Purtroppo trova i brawler Qua è difficile Tommy Basta con queste campanelle Sembra che stai in bicicletta Sì, mi manca Sono tic Ehm 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 Un genio Un genio E ho finito Eh, sì E poi ti mancano i leggendari Ovviamente I leggendari E quelli sono Introvabili Però Le mie percentuali Si sono Sono diminuite Eh Purtroppo Questo è il gioco Uh, attenzione Perché quel Brock Potremmo tentare il Doppio Brock Ragazzi Bellissimo La rottura di sistema Con Brock Poi possiamo ammazzare Raga, ovviamente Quando rompono il sistema Sono sia una rottura di sistema Che una rottura di scatole Attezione Perché colpisco Brock Allora ragazzi Ovviamente Io spero che Questo video Con Eh, Alessandro O più come lo volete chiamare Vi stia piacendo Pioxgamer Pioxgamer Ovviamente iscrivete al suo canale Spero che vi stia piacendo Perché io mi sto divertendo Un sacco Abbiamo Ovviamente Noi giochiamo Ma noi ci divertiamo sempre Un sacco Ovviamente noi giochiamo Quasi sempre Insieme Attenzione perché Pioxgamer Voi raga Le ammazziamo No io muoio Non è vero Non muoio Attenzione Ti sta laggando Aspetta No no Perché devo Posare alcune cose Posare alcune cose Vabbè raga Tanto siamo tre team C'è Vabbè Vieni con me Vengo vengo Non ti preoccupare Non ti lascio Qua ci potrebbe essere un team Mi sta laggando Eh vedo vedo Eh ne hanno nove Questi addirittura Abbiamo quasi ucciso Abbiamo quasi ucciso Terzi però Terzi però abbiamo fatto Ragazzi comunque vi dico una cosa Se vi scrivete a mia canzone Vi fate un grande favore Eh raga Vi fate un grande favore Perché Ovviamente non andate a cercare Non andate a cercare Adesso il suo canale Perché non è Cioè non ha ancora fatto un video L'ha solo aperto E niente Ce la facciamo un'altra partita Tanto Cioè ce l'abbiamo il tempo Tanto Ragazzi Mi sa che uscirà Pure il quarto video di Brossers di fila Perché sono arrivata A 6.000 coppe E vorrei farvi il video Del box opening Sai che ti dico Ma Non posso perché Sono un po' colentino Ad aprire le casse Però possiamo fare sempre Insieme il video Dove faccio il box opening Eh così ho detto Eh lo faccio Ovviamente in un prossimo video Eh niente Facciamo Rose del primo Facciamo le rose del primo Facciamo le rose del primo Dai Perfetto Eh niente ragazzi Mi sto divertendo un sacco Non mi posso Non mi posso far capire Quanto mi sto divertendo Eh vediamo Dico Per telefono Quindi parliamo Per telefono Quindi ogni tanto Può arrivare Uno scatto di telefonata Un lag E quindi sarà Un po' complicato Però Con tutti Con tutti questi problemi Li ammazzeremo Ci problemi Ce la faremo Però Già il primo video Ce la sta facendo Per i nostri iscritti Per i nostri iscritti Ovviamente Divideremo gli iscritti Non è vero Mai nella vita Oh io te li vorrei dare Tutti Io te li vorrei dare Tutti Non fa niente Non fa niente Carmina Raga ovviamente Ovviamente Ve l'ho detto Per caso Non l'avessi sentito bene Lui Aperto sul canale Non ha ancora Fatto un video Il video suo Dovrebbe uscire domani Per quello che mi ha Per quello che mi ha detto Giusto? Sì Se non mi sto io sì Quindi domani Non vi perdete Questo primo video Non è detto Che esce Però Potrebbe Ti sta laggando Oppure ti stai immobile Comunque Aspetta Fammi fare No dai Capito ragazzi Comunque Nel caso Ci vedete un po' Colaggare Non ci dite Questo video È brutto È brutto Perché comunque Non ci possiamo fare niente Purtroppo Eh perché non siamo Quei youtuber Nel senso che No ma a parte Poi via telefono È più difficile Registrare video Capito Quindi Quarta posizione Ho provato a uccidere Quei due Ma era un po' Difficile Niente Niente Dici Dici No Ok Così Però Vabbè Faccio No Ci facciamo Un altro Flore Ah comunque Non siamo Tipo Quei Che usano Tutte Quei Attrezzate E basta Siamo Nelle persone Normali Non persone Che si prendono Fino a morire Vabbè ragazzi Noi ci facciamo L'ultima partita E poi credo Che possiamo Concludere Qual video Perché comunque Io non posso Fare i video Troppo lunghi Se potessi me ne fare Pure di 20 minuti Ve lo dico E purtroppo Comunque il canale Tu Puoi decidere Tu Quante poti Lo fare Vabbè Sì ci facciamo L'ultima Perché ho visto Che abbiamo Ancora un po' Di tempo Tanto Fino a 14 minuti Non abbiamo problemi Vabbè Ragazzi Comunque Come potete vedere Se non si muove Lagga A lui A me no Perché Ovviamente Quando giocherà Lui Vedrete Il suo schermo E quando giocherò E quando farei I miei video Vedrete Il mio schermo Sono qua Sono qua Io mi andrò Aiutarmi Non posso Mi stanno Ascicchiando Purtroppo Ragazzi Ovviamente Questo è il primo video Ma poi andremo avanti Benissimo Ragazzi Sono riuscita a uccidere Una Penny Però io sono morto Eeeh Di nuovo quarti Ehm Purtroppo ragazzi Adesso credo Che dobbiamo Concludere Qual video Perché altrimenti Prolunghiamo troppo Io ovviamente Spero che vi sia piaciuto Usciranno altri video In collaborazione Di Piox E domani Non perdetevi Il suo video Sul canale Piox Gamer Che sicuramente Sarà Brawl Stars E niente Spero che ovviamente Questo video vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Se vi piace La serie di Brawl Stars E da me Sì sì Quanti like Io di solito Non chiedo i like Perché ovviamente Non li raggiungiamo mai Quindi Quanti like potete riuscire Riuscire a raggiungere Spero i dieci Da me E da Alessandro Un saluto Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Storno